La Regione Sicilia, a seguito di un preciso emendamento, è presentato dall'On. Ignazio Abbata destinato per l'esercizio finanziario 2024 la somma di 2,5 milioni di euro ai comuni che distano oltre 50 km dalle sedi centrali degli Atenei di Palermo, Catania, Messina ed Enna per il rimborso delle spese di trasporto sostenute dagli studenti universitari residenti in questi comuni. L'assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, trasferirà le risorse ai comuni in quadra proporzionale al numero di abitanti, i comuni a loro volta provvederanno all'erogazione del contributo dopo aver disposto apposito bando. La Commissione Bilancio, della quale l'esponente della DC fa parte, ha votato favorevolmente il provvedimento che riguarderà migliaia di giovani che usano i mezzi pubblici per raggiungere le sedi universitarie di competenza. A partire dall'inizio del 2024 bisognerà conservare i biglietti dei treni o degli autobus che verranno poi presentati al proprio comune di residenza, il quale procederà al rimborso. Qualche anno fa, nel corso del mio secondo mandato da sindaco, commenta l'On. Abbata abbiamo sperimentato questo provvedimento con ottimi riscontri per cui ho deciso di presentare un emendamento che andasse in questa direzione, replicando su scala regionale ciò che era stato fatto nel territorio comunale di Modica. Rimborsare le spese di spostamento vuole essere un incentivo a chi sceglie di non emigrare e rimanere nella propria terra, oltre che un piccolo aiuto economico nei confronti delle famiglie che sono già obberate dalle spese legate alle tasse universitarie, ai libri di testi e a tutto quello che è connesso all'istruzione universitaria.